buongiorno e benvenuti a tutti cominciamo oggi eh nostro seminario Dante e l'Oriente un titolo molto molto suggestivo e da cui ci aspettiamo insomma eh di molte molte cose ci aspettiamo di ascoltare delle interessantissime conferenze di arricchire la nostra conoscenza di Dante eh il seminario ricordo è compreso nelle negli eventi della settimana della lingua eh che appunto in questa settimana si svolge in tutto il mondo e che quest'anno eh ha il titolo proprio Dante l'italiano il ricordo dei settecento anni eh della morte di Dante dell'anniversario dei settecento anni della morte di Dante quindi io saluto intanto eh i nostri relatori il professor Paolo Rigo e il professor Valerio Cappozzi che sono Cappozzo che sono i relatori di oggi saluto anche la professoressa Nemino Scan che è eh il capo del dipartimento di italianistica dell'università di Ancara e saluto anche ringrazio il nostro traduttore Seda Bornoval non so se pronuncio bene eh che appunto eh eh tradurrà l'intervento dei nostri relatori eh per gli amici turchi che avessero qualche difficoltà a capire l'italiano. Eh io invece mi presento io mi chiamo Anna Frigioni sono la lettrice mh del MyCin caricata del MyCin qui all'università di Ancara e eh lavoro anche rappresento in questo momento l'ambasciata d'Italia. Eh non voglio rubare tempo ai lavori e quindi lascio immediatamente la parola alla professoressa Scan che eh inaugurerà appunto ufficialmente eh questo seminario. Prego professoressa. Ecco buongiorno a tutti grazie dottoressa Trigioni eh comincio ringraziando l'ambasciata d'Italia d'Ancara eh ambasciatore Gaiani, dottor Sabioni, la dottoressa Trigioni e il nostro dipartimento di italianistica eh con i nostri cari studenti e colleghi e eh l'Istituto Italiano di Cultura di Istanbul eh con cui mano in mano siamo riusciti a organizzare gli eventi di questo anno di questo anno importante perché anno dantesco oltre a essere diciamo un un evento particolare perché la settimana della lingua in questa settimana abbiamo inserito questo bellissimo programma che credo che sia molto importante anche per i nostri colleghi studenti insieme con i nostri colleghi italiani di dell'Università di Roma tre eh professor Paolo Rigo, professor Luca Marcozzi e poi con la professoressa Giulia Maria Cicchiani della John Hopkins University di Roma eh con professor Valerio Cappotto dell'Università di Mississippi e con la professoressa Serena Mauriello che ci conosceranno eh la giovedì e venerdì in queste in queste due giornate di studio che si intende la dante e il contente eh tanto in l'Oriente è un tema che mi interesserà a tutti perché ci sarà un'altra opera eh un altro modo di considerare questa grande opera dantesca eh per questo sono anch'io molto curiosa anche io sono molto curiosa di ascoltare i nostri eh relatori ecco prego la parola a voi e poi eh no fino a prima di finire vorrei dire last but not least che gli atti eh del convegno come li usiamo chiamare verranno pubblicati grazie all'Istituto Italiano di Cultura e eh dottor Stirmo ci ha eh reso possibile proprio questo atto con cui eh ovviamente eh quando una volta che verranno pubblicati gli atti tutti avranno accesso a leggerli a riconsiderarli a rivalutarli e poi eh sui eh canali eh diciamo sui eh su tutti i canali dell'Istituto dell'Ambasciata su YouTube potrete vedere ancora eh questi bellissimi eventi eh queste relazioni grazie e iniziamo i lavori prego la parola eh professor Rigo credo vero? Sì prego. Sì io volevo mi prometto di intromettermi volevo presentare velocemente il professor Rigo che io ringrazio moltissimo perché è sempre eh disponibile ad aiutarci eh non solo con la sua appunto presenza eh e la sua professionalità e la sua competenza ma anche proprio nell'organizzare le cose per cui per noi è un punto di riferimento è diventato un punto di riferimento importantissimo eh in questi anni e quindi lo ringraziamo sempre moltissimo per questo eh dico qualcosa su di lui eh professor Paolo Rigo è ricercatore presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Roma Tre e ha al suo attivo un centinaio di pubblicazioni su riviste specializzate e miscellane. È autore di tre monografie importanti, una dedicata a Petrarca, una dedicata a Mario Luzzi e una allo stil nuovo quindi i suoi interessi spaziano diciamo dalla letteratura medievale alla letteratura moderna. Nel duemila diciannove è stato visiting professor presso l'Albert Ludwig l'Università di Friburgo in Germania e anche ricercatore associato della Sorbonne. Eh il professor Rigo eh terrà eh un intervento dal titolo Dante eh no Eden l'Oriente e la Commedia. Prego professor Rigo. Grazie Anna, grazie Nevin. Io prima di iniziare così recuperiamo anche qualche minuto eh intanto eh non posso che insomma dare la mia gratitudine, comunicare la mia gratitudine, i miei ringraziamenti a ormai posso dire un'amicizia anche se negli ultimi anni un po' in lontananza ma tutto sommato io ricordo eh con piacere eh era il duemila e diciotto no la prima volta che che sono venuto ad Ancara e e devo dire spero insomma adesso ce lo diciamo ormai da un po' speriamo che la prossima volta sia in presenza. Io sono sicuro che quando ci sarà la possibilità tanto io quanto altri cari amici perché tutto sommato la letteratura come ci ha insegnato Petrarca è fatta d'amicizia. L'amicizia è in assenzia. Ecco noi speriamo che magari la prossima volta non sarà in assenza ma sarà in presenza eh anche i nuovi amici come Valerio ad esempio possano magari venire in Turchia a scoprire la bellezza di un paese straordinario ricchissimo di storia e anche la la generosa ospitalità che ci avete sempre offerto e quindi di questo vi ringrazio. Per me si è parlato anche troppo generosamente del mio ruolo in questa occasione o nelle altre. Io devo dire di avere un piccolo debole per la Turchia perché come tutto sommato San Evin eh mio nonno era di Rodi ma eh mio bisnonno era di di Smirne quindi tutto sommato diciamo che nonostante il il cognome dia un'altra idea tutto sommato ecco c'è una parte di Turchia in me e quindi sento un po' come dire una sorta di di anche un po' anacronistico eh eh colpo al cuore quando sento parlare di Turchia e mi fa veramente veramente tanto piacere eh poter partecipare agli eventi organizzati dall'Università di Ankara dove tra l'altro oltre le persone qui presenti ho anche altri amici come Bullet che è un bravissimo studioso di Petrarca di letteratura di viaggio di letteratura di Turchia. Bando un po' alle ciance vorrevo solamente a questo punto dare un po' la notizia negativa mi permetto di darla io purtroppo Marco Ariani domani non potrà tenere la sua lezione per un problema di salute niente di grave però è davvero impossibilitato anche solo a collegarsi al PC. Tra parentesi diciamo anche lui eh ci teneva molto tant'è che per ovviare ad alcuni problemi tecnici avrebbe eh tenuto la lezione qui a casa mia cioè avrebbe fatto un viaggio Firenze-Roma per colmare almeno un po' quell'assenza ecco quella distanza eh verso l'Oriente che tutto sommato se vediamo la carta geografica Roma rispetto a Firenze è un po' più verso Turchia certo manca ancora qualche chilometro però tutto sommato era era un primo tentativo che dobbiamo fare però mando i saluti di Marco che insomma ehm ha sicuramente assicurato ecco che la prossima occasione sarà quella giusta lo speriamo io eh noticamente riprendo l'invito che ho fatto all'inizio l'augurio che ho fatto all'inizio speriamo che sia in presenza se non lo sarà sarà quella dopo. Io inizio insomma con un paio di minuti volevo solamente ecco spiegare anche un po' il perché di questa iniziativa noi abbiamo un dialogo aperto con Ancara come si capisce da quello che ho detto finora e quando insomma si è parlato un po' di questa settimana della lingua io è la terza partecipazione che faccio insomma con con Ancara con la Turchia beh questo è il centenario non si poteva non parlare di Dante chiaramente dovendo però eh scegliere ecco un tema devo dire che a me è stata data carta libera avevamo un po' eh discusso con Nevin ci siamo confrontati ho proposto mi prendo un po' questo piccolo merito di ragionare proprio sull'Oriente perché perché tutto sommato l'idea era di venire in presenza c'è da dire no che la forza la ricchezza delle vestigie imperiali orientali eh dove si trovano se non si trovano in Turchia e quindi eh l'idea era proprio questa cioè di ragionare un po' su quello che voleva dire eh l'Oriente per Dante eh l'Oriente geografico l'Oriente immaginifico l'Oriente filosofico e su questo eh credo che la maggior parte delle relazioni si concentreranno ne avrebbe dovuto parlare Marco ne parlerà in un certo senso Valerio ne parlerà ancora Serena Mauriello poi c'è l'Oriente come ho detto politico l'impero d'Oriente che è un impero che annulla le distanze da un certo punto di vista quando si utilizzava eh la parola Romani Romuli o via dicendo nel Medioevo ci si riferiva a chi? Certo ai cittadini di Roma ma anche ai cittadini di Costantinopoli ai cittadini dell'impero romano quindi ai cittadini di Istanbul insomma questa è la verità. Noi siamo parenti non solo attraverso gli antenati del professor Rico ma anche a livello culturale e questo credo che sia innanzitutto un punto soprattutto per i giorni in cui viviamo al di là del virus importante da tenere in considerazione. Il Medioevo occidentale e quello orientale hanno dialogato per secoli e hanno dialogato per secoli in città splendide della Turchia come Costantinopoli. Prima di tutto Costantinopoli dove genovesi e veneziani passeggiavano uniti certo dal commercio e via dicendo ma anche da quello che non poteva non essere una curiosità intellettuale fortissima. Ce ne dà una testimonianza molto bella Umberto Eco, il Baudolino, quando racconta meraviglioso, quando racconta di questi veneziani, di questo personaggio stranissimo che parla con Niceta, racconta le sue storie. Cosa c'è in Baudolino? C'è l'immaginazione anche, che c'è l'Oriente estremo, quello del prete Gianni, quello che non esiste ma che tutti un po' rincorriamo come utopia, perché questo è. E l'utopia oggi è tornare alla normalità da un certo punto di vista, sempre meno utopia fortunatamente, almeno questo c'è da dirlo. E poi c'è l'Oriente dei grandi personaggi, ne vedremo uno in particolar modo, c'è Saladino, di cui ci parlerà Giulia Maria Cipriani. Luca Marcozzi, invece che lui è nominato, parlerà di un tema fondamentale, cioè la traslazio studi, ma che tutto sommato ha anche un valore politico, quindi rientra un po' nel discorso che ho fatto prima. Dovendo affrontare questo discorso, io ho un po' pensato di ragionare su un piano geografico e chiederei intanto che parlo anche di darmi la possibilità, di attivarmi la possibilità, ah no, la vedo adesso attiva, della condivisione dello schermo, grazie Anna, e quindi ho un po' dedicato questa mezz'ora, 40 minuti, un po' a un problema, cioè all'Oriente dantesco, inteso come mondo, come spazio, a mio avviso più immaginifico che reale, però ecco, comunque la mia, e particolarmente a un luogo, cioè l'Eden, la mia relazione verterà su questo argomento. Ragionare in merito a un qualsivoglia luogo terrestre descritto nella commedia significa dover tenere a mente un'ampia tradizione di studi dedicata alla geografia dantesca. Una tradizione che negli ultimi anni non posso non notare che sia cresciuta notevolmente, accogliendo tra le sue folte schiere saggi di eminenti studiosi. Soprattutto c'è una tradizione americana fortissima che studia la geografia non solo dantesca. Alla luce di questa rinnovata attenzione critica, l'interesse di Dante per la geografia appare dato assodato, per lo più innegabile. Devo però dire, essendo io tutto sommato, chi è il critico? Beh, il critico ricordo una battuta di un mio vecchio docente che scrisse un libro molto delicato, molto carino, la vocazione di Iago riprendendo il personaggio di Shakespeare. Perché Iago a colloquio con Desdemona diceva, madonna io ho un solo pregio, criticare. Quindi la vocazione di Iago è la critica. Quindi io criticando un po' devo anche dire che alcune proposte hanno finito, alcune proposte critiche sul tema, a mio personale avviso, per sovrainterpretare il ruolo svolto nella commedia, nelle altre opere dantesche, da questa disciplina e da quella a fine della cosmografia. Io ho detto, sicuramente non è in discussione il fatto che Dante avesse una buona padronanza dell'argomento e dei trattati relativi al genere. E non è più dubitabile che possedesse una certa familiarità con le carte geografiche del tempo e in specie, io credo, con quelle che disegnavano lo spazio locale e reale dell'Italia e del Mediterraneo, evidentemente. Però bisognerà anche ricordare che la raffigurazione del globo nel poema non risponde a norme strettamente riconducibili alla disciplina geografica come la intendiamo noi, cioè intesa quale scienza. Se volessi fissare un principio di studio, io credo che per Dante e per Medievale esistesse un sistema geografico binario e che quel sistema vada comunque sempre rimesso quando si parla di regole retoriche precipue. La prima componente di questo binomio è evidentemente rappresentata dallo spazio quotidiano, compreso nelle regioni italiane del centro-norde, di cui Dante ha un'esperienza diretta, non fosse altro perché l'esiliato ci ha vagato, e anche il mare, appunto, dicevo, mediterraneo che evidentemente poteva conoscere attraverso qualche carta navi. Si tratta di uno spazio fisico che l'autore non manca di menzionare con puntualità nella commedia. Per esempio, nel nono canto dell'Inferno, quando deve cercare un termine di paragone per il tremendo spettacolo delle tombe aperte degli eretici, che gli si stagliano davanti agli occhi, eccolo ricorrere alla vastissima necropoli di Arn e a quella meno nota di Pola. E quindi, impiegando l'ideografia, indirettamente traccia i confini della penisola italica. Sono i famosi versi, siccome a Darli ove Rodano stagna, siccome a Pola presso del Carnaro, che Italia chiude e i suoi termini bagna. Geografia fisica, puntuale, Rodano da una parte, Carnaro dall'altra, Pola Arle, addirittura, però anche qui c'è della retorica perché le due località sono poste quasi in maniera speculare. Tracciano dei confini, guarda caso, però sono una dalla parte e una dall'altra. Un altro esempio dell'alta funzionalità retorica della geografia di tipo locale si ha, e lo ha rilevato Luca Marcozzi, nel ritratto elogiativo che Tommaso d'Aquino dedica a Francesco d'Assisi nell'undicesimo canto del Paradiso. Panegirico del Domenicano è funzionale a livello retorico per sottolineare la caratteristica principale del fondatore dell'ordine francescano, la semplicità, l'umiltà di Francesco. Questo elogio è preparato per così dire dal contesto geografico e naturalistico, dove la trascurabilità dei luoghi e dei paesaggi in cui la vicenda umana del santo si svolse anticipa le scelte spirituali dello stesso concluse con il matrimonio tra Francesco e Madonna povertà. Anche in questo frangente le precise coordinati spaziali fornite al lettore, d'ordine oro, quindi montano e idrografico, e proposte sotto forma di perifrasi, sono molto puntuali. In fratupino e l'acqua che discende del colle letto del beato Ubaldo, fertile costa d'alto mondo, pende. Qui c'è un valore simbolico, i luoghi sono umili perché Francesco era umile, la geografia parla con la vita di Francesco. Però c'è anche da dire in aggiunta. Perché dovrebbe essere un valore diverso? Voglio dire, se Dante si fosse lasciato ad andare a inserti immaginifici su uno spazio evidentemente conosciutissimo, qualsiasi oglia lettore umbro avrebbe potuto contrabbattere che Dante si sbagliava e che la ricostruzione di quel contesto storico spaziale, dove era nato e cresciuto il santo di Poperello d'Assisi, non era corrente. Quella di Dante è dunque una chiara strategia dialettica. Spazio noto si piega a ragioni retoriche, simboliche, ma non immaginifiche. Non può essere altrimenti. Sono invece diversi casi del secondo binario, dicevo dicotomia, uno lo spazio noto, l'altro quello non noto. Quelli relativi cioè alla geografia planetaria che Dante poteva conoscere solamente attraverso le raffigurazioni, ora si immaginifiche, fornite dall'autorità di eruditi e filosofi a lui precedenti. Un ricco panorama, a suo modo topico, che adunava interpretazioni del mondo diverse tra loro, come quelle assai celebri dei vari mappamondi. Adesso me ne faccio vedere qualcuno. È ATO. Vedete? Questa è una mappa di Erfurt che è famosissima e che è andata perduta, insomma. La vedete? Si vede? No, non si vede nulla. Aspettate un secondo. Proviamo così. Ora si vede qualcosa? Questa è una mappamondi torinese, mappamondi Beatus. Questa che segue è la mappa di Erfurt, che è l'errima. Vedete come c'è questa T che è formata diciamo dalle acque e la O che è lo stesso mondo. Questa è un'interpretazione simbolica del mondo. Si discute molto, ma loro davvero pensavano che il mondo fosse piatto? No, loro probabilmente pensavano che il mondo fosse sperico, però ripreso dall'alto dava questa immagine. D'accordo? Ma è topica anche un altro tipo di interpretazione del mondo, meno famosa, quella del mondo tabernacolo, per esempio, ipotizzata da Cosma Indico Pleuste nella sua tipografia cristiana del V secolo e che oggi in Italia è conservata in due preziosi manoscritti mignati, uno laurenziano e l'altro vaticano, entrambi risalenti al 1100 circa. E ve lo mostro. Eccola qui. Questa, vedete, è un mondo, diciamo tutto sommato, eccolo qui, mondo tabernacolo, cioè il mondo è in questa specie di scrigno, c'è questa montagna che separa occidente e oriente e il movimento del sole. D'accordo? Questa montagna, tra l'altro, toccava le sfere celesti, vedete sempre nel manoscritto tutto sommato, questo in greco, quindi vedete che la rappresentazione è simile a quella dantesca, ma è improbabile, anzi se non impossibile, che Dante abbia avuto una qualche nozione pur solamente visiva dell'opera di Cosima. Questo dobbiamo dirlo. Io vi mostro solo per farvi vedere che l'idea era diffusa. Questa bella illustrazione in particolare attesta come l'idea della divisione del mondo in emisferi e la possibilità che esistesse una montagna altissima circondata dall'oceano, dal mare oceano. Qua si legge poco però, oceano, questo è l'oceano, che dritta si staglia fino a toccare il cielo, e qui lo rivediamo da questa immagine qui, non è poi così innovativa. Notate addirittura in questo disegno come la montagna ha praticamente dei giri, quasi delle balze, come il purgatorio dantesco tutto sommato. Questa raffigurazione conferma quanto rilevato da Segre e da Michel Vauvel. Secondo entrambi l'idea in questione, quella della montagna alta nel purgatorio che tocca il cielo, dove più o meno insomma c'è un altro regno dell'aldilà, questa idea iniziò a diffondersi nel mondo mediterraneo a partire proprio dal V secolo d.C. Ora, il rapporto tra la tradizione culturale e geosimbolica, tardo-medievale, che Raymond Besslie più di un secolo fa, assunto una prospettiva del tutto scientifica, definiva completamente futile, rispetto quindi alla storia della cartografia e la commedia, è stato ben messo in luce da Brenda D. Schlichten, secondo cui, repartita come la Trinità, la geografia, giungo io, planetaria di Dante, di stampo resiano e che contempla un solo continente, e tipica delle mappe mondi e ciclopediche del XIII secolo, quello che più o meno vi ho fatto vedere. Dante, guidato dalla tripartizione geografica del mondo, distingue i territori dell'ex impero romano, le sue zone di confine e l'aria al di là delle zone di confine in India e Etiopia. Ecco, per questioni come il veglio di Creta, la montagna del Purgatorio, per esempio, il contributo dantesco alla geografia si manifesta su un piano esclusivamente immaginifico o simbolico, e ciò va ribadito con forza, perché altrimenti dovremmo pensare che Dante pensa che a Creta ci sia un gigante di Fezzo. Certo, andranno comunque valorizzate le differenze tra Dante e quella tradizione a cui si fa riferimento nel passo che ho appena citato. Sono distinzioni di non poco conto, perché c'è da dire che secondo quella geografia nell'emisfero sud e negli antipodi, no, vivevano dei mostri, degli uomini con la testa di cane, degli uomini con una gamba sola, con la testa posta nel grembo. Ecco, Dante non dice assolutamente nulla di ciò. Non c'è un solo luogo dell'opera dantesca in cui lui dà l'idea di credere a questo tipo di interpretazioni del mondo. Quindi sono delle distinzioni che esistono anche in merito alle ragioni, alle motivazioni che ogni testo di per sé attesta e propone. Evidentemente a Dante di descrivere gli antipodi un'interessata. Se la commedia può essere definita come il tentativo di includere il mondo intero all'interno di una singola visione unificante, bisognerà ammettere però che all'interno di quella stessa visione trovano spazio, secondo un'ottica sincretizzante, un passato culturale recente, ma anche uno più remoto. E su questo spunto chiudo un attimo e lo riprenderò più avanti, questa questione della sincretizzazione. fate proprie queste puntualizzazioni e ora per me è possibile fissare una norma rispetto al noto Dante geografia. Esso a mio avviso andrebbe studiato secondo una prospettiva quasi esclusivamente allegorica, altrimenti si incappa nell'errore di Bezley di cui facevo riferimento prima, tutto materiale inutile quello geografico, oppure si rischia di considerare Dante per ciò che egli non fu, cioè un cartografo inesperto, dilettante e avvenso all'errore. Prima ho parlato di Baudolino, no? Ecco, chi ha letto Baudolino ricorderà che Umberto Eco ci dà un'immagine tremenda, ironica, parodica, di Riccardo di San Vittore, perché uno dei compagni di Baudolino, Abdul, lo racconta, lo descrive, mentre il Vittorino viene insomma descritto mentre impegnato a costruire un modello del Tempio di Gerusalemme secondo le indicazioni bibliche, che sono contraddittorie. Quindi questo modellino cade ogni volta, quindi Riccardo prova altre proporzioni, non esce mai nulla, cioè non si possono far quadrare i conti, ecco, in un certo senso. Questo è il messaggio del lettore moderno, è simbolismo. Se noi ci approcciamo con quella prospettiva di Riccardo, è Dante che cosa è? È un cartografo che sbaglia. Il sapere testamentario, che poi è lo stesso a cui ricorre Riccardo per il Tempio, in merito a questioni geografiche simboliche, non offre mai indicazioni univoche. Le contraddizioni e le imprecisioni non mancano nella Genesi, negli altri testi dell'Antico Testamento e fin anche nella patologia. Un esempio geografico può essere proprio il paradiso terrestre o Eden, che Dante, compiendo un atto di libertà intellettuale notevole, considera alla pari di un giardino posto sulla cima della montagna del Purgatorio, la cui bellezza supera ogni locus amenus descritto dai poeti antichi, ecco la sincretizzazione, di cui vi parlerò fra poco. Chiudo questa premessa, però voglio dire che non credo che sia possibile presumere, lo ribadisco, che le misure, diciamo, geografiche e i problemi storico-culturali affrontati da Dante rispettino perfettamente i confini degli schemi dialettici propri della trattazione scientifica o di altre branche del sapere assimilabili a quelle scienze più pseudo-dure al tempo. Si tratta di poesia e la poesia ha una sua retorica, ci mancherebbe, e delle sue particolarissime regole. Una di queste molto banale, di cui è cosciente anche Dante che lo dice, dice chiaro e tondo, lo dice, io devo fare i conti anche con le parole che uso. Una regola basica, la quantità di sillabe, il rispetto della concretizzazione rimica, di cui a volte quasi non si tiene conto. Sono due costrizioni, se andiamo a pezzarci. Non è che Dante può parlare a flusso di coscienza libero, deve fare i conti con le sillabe. Questa necessità, questa sorta di blocco, lo dico banalmente però, sembra scontato ma non lo è, costringe il poeta a commettere delle inevitabili approssimazioni, più o meno nette. Prima si rispetta la retorica, poi si compie il pensiero. Tale assunto non è sempre stato tenuto in conto nella trattazione critica sulle questioni geografiche, dove pure i toponimi, le semi, svolgono una funzione importante e gli scarti delle forme non sono rari dalle forme basi. Faccio un esempio, un esempio solo, in merito al veglio di Creta, così entriamo di più sulla materia orientale che vi ho anche un po' accennato prima. Il veglio di Creta si sono veramente spesi i fiumi di inchiostro, no? In particolar modo ne è stato impiegato molto relativamente al misterioso l'escema Damietta. Il veglio è a Creta, guarda verso Roma, dice Dante alle spalle a Damietta. Dice perché Damietta? Ma poi tra l'altro il vocabolo topografico, le sue varianti greche e latine sono assenti, hanno scritto diversi studiosi, nei dettagliati i paesaggi di Virgilio, Lucano, Stazio, Vivio, Razio, nelle glosse o nei trattati di Mela, Solino, Sacrobosco. Insomma, non sembra possibile determinare perché Dante scelga di impiegare quella forma linguistica, perché Damietta, né perché abbia evidenziato proprio questa località, quale riferimento geografico per la posizione del gigante. Dentro da Monte sta dritto un gran veglio che tiene volte le spalle in verta miata e Roma guarda come suo speglio. Perché Damietta? Perché Damietta, scusate, perché Damietta? L'iquità tantesca si riflette nelle segesi dei commentatori più antichi che non giungono a una spiegazione univoca. Ma io credo sia una questione, una risultante della polisemia che è un carattere proprio del genere poetico, cui la commedia va a scritta con buona pace di chi pensa che la commedia sia un trattato pseudo-scientifico, pseudo-cosmografico ancora. C'è uno dei pochi avversari di Dante, c'è Codascoli, che quando mette un trattato scientifico in versi, cioè la cerba, che fa, riscrive tutta la scientifica, fin dove arriva, riscrive tutte le questioni scientifiche di Dante. Perché sono sbagliate evidentemente? Ma noi non dobbiamo pensare che siano sbagliate, noi dobbiamo pensare che non siano né sbagliate né veri, dobbiamo pensare che sono poesie. esistono perché è poesia, perché è simbolo. Questo è. La poesia è un mondo dove l'autore può permettersi di storpiare un termine o ricorrere a un altro, magari anche connesso con uno storico, al solo fine di dichiarare che quel qualcosa esiste ed esiste però soltanto nella dimensione allegorica dei suoi versi. E questo è un tratto comune alle narrazioni di viaggio antiche, categoria dove, come hanno osservato Dennis Wood e John Phil, insistere che something is there is an equally powerful way of insisting that something is. Quindi, dire che qualcosa c'è significa che qualcosa è. Se però si sceglie di seguire la commedia alla pari di un trattato matematico pseudosale, si rischia di approdare ad approssimazioni che nel campo delle scienze dure, di cui bisognerà quindi sposare le regole, si traducono in banali errori, che diventano gravi però. Riccardo di San Vittorio. Non è possibile affermare che appare consentito far passare, come pure è stato fatto, il meridiano diamantino sul monte Sinai, riferendosi alla città di Damietta, l'attuale Liumiat in Egitto, dicendo che tutto quadra. No, perché è un'approssimazione che geograficamente parlando non ha alcun valore. Damietta dista da Roma, 23 gradi magari, ma che è pure la metà da Gerusalemme e va bene, ma rispetto al Sinai, quel meridiano sarebbe fuori fuoco di due gradi. Cioè quasi di due meridiani. Cioè è un errore gravissimo in queste proporzioni. Cioè non va bene, non è ammissibile insomma. Quindi se si accorda a Dante una dialettica scientifica, bisognerà ammettere che quella struttura è fallace fin dalle fondamenta. Perché un errore specifico di tale portata non è minimamente ammissibile con tale proporzioni. Ma questa non è un'ottica che voglio dire sembra che io lo stia facendo con un'ottica moderna. No, perché l'errore scientifico era chiaro pure a Pitagora, insomma. La matematica ha una sua struttura, ha delle sue leggi che sono antichissime, insomma. Non è Dante che conoscesse o me non lo sapeva benissimo. Ben altro discorso è riconoscere che Dante abbia attribuito a Creta un valore di sito intermedio tra Roma e le terre levantine del Mediterraneo, onde trascorsero, trassero il viaggio Enea e San Paolo. Si tratta di un'affermazione tanto più valida se si ricorda che Creta era la prima vendace destinazione degli esuli troiani nelle Eneide, Eneide 2, 25, 103, 104, e ancora la tappa obbligata causa anafraggio del viaggio di Paolo verso Roma, come è narrato negli Atti degli Apostoli. Ma in questo Damietta c'entra poco. Se proprio bisognerà cercare un motivo del perché Dante la cita, basterà ricordare che essa è la città dove sarebbe approdato Francesco d'Assisi per tentare di convertire Malik al Kalim, nipote del Saladino. L'episodio geografico è noto a Dante, che lo ricorda in Paradiso 11102, attraverso la leggenda maior di Bonaventura del Bagno Reggio, dove la cittadina egiziana, tra l'altro, questo non se ne ha accorto nessuno, tutti a domentarsi perché Dammiata, perché? Ecco, in Bonaventura, Bonaventura nomina la città con una forma latina particolare, Dammiatam, che a me sembra davvero molto simile al volgare della commedia. Quel termine, Dammiata, ha dunque un valore innanzitutto letterario, allegorico, con un certo volto a sottolineare l'urgenza di una nuova crociata come pure è stato scritto. Dante delle crociate gli interessa poco, a te che ne parla praticamente mai, quando ne parla le condanna pure, quindi semmai fatte proprio le coordinate semantiche relative tanto a Francesco D'Assisi quanto al Veglio di Creta, è possibile forse pensare che il riferimento geografico di Damietta possa essere rimesso al problema della traslazio imperi, di cui ci parlerà in parte domani Marcozzi e che solo in parte riguarda le crociate. Non solo il Veglio è stato tradizionalmente interpretato come una sorta di maschera parodica della questione, scritto un bellissimo saggio Massimiliano Malavasi su Scaffala Aperto qualche anno fa, ma al di là del giudizio di Dante, in merito al francescanismo, altro tema più che complesso e con tante troppe sfumature nella commedia per affrontarle ora, si noterà che l'episodio relativo all'incontro con il soldano egizio, quindi quello ipote di Saladino, su cui comunque non è neanche detto che Dante abbia, tanto per una piccola accenno alla complessità della questione francescana, non è neanche detto che Tommaso sia elogiativo in quel momento, perché dice un po' bico, Francesco si rega lì per sete di martirio, sete di martirio, cioè l'esagerazione del martirio, non è detto che sia del tutto così. Comunque quell'occasione si colloca in uno degli azzardati tentativi di restaurazione dei regni d'Otremato, terre che in un tempo remoto erano appartenute all'impero romano, ma l'impero romano era il garante della paz universale cristiana, ed ecco perché Francesco, movimento culturale da un certo punto di vista, quindi di quella macchina politica che secondo Dante era l'unica in grado di garantire la pace non solo cristiana ma universale. Dunque non crociata in chiave politica, ma impero in senso universale e autore. Tornando al centro della mia relazione, si ricorderà che in merito alla giusta collocazione della montagna del Purgatorio sono state tantissime le immagini, il problema di dove si trovasse il monte e con esso l'Eden è però quasi del tutto assente nella tradizione esegetica più antica del poema, dove al massimo ci si preoccupa del carattere allegorico da attribuire al luogo in questione. Basterà notare che a proposito della possibile prima menzione del Purgatorio in senso geografico del poema, potrebbe trattarsi della montagna intravista da Ulisse, no? Durante il Folle Voro, i commentatori antichi non si preoccupano di far tornare i conti. Jacopo Alighieri nel suo commento ai versi 130-135 d'Inferno 26 insiste molto sulla dimensione figurale del viaggio di Ulisse, figurativamente favoreggiando per lo quale figurativamente si considera. Diamo attenzione alle parole, favoreggiando figurativamente figurativamente. Guido da Pisa ricorda con l'autorità di Isidoro che per lo stesso luogo, attraverso lo stesso luogo che il mondo era diviso in tre parti, Asia, Africa, Europa e da una quarta che transo oceanum interior est in meridie. Afferma però anche che le narrazioni dedicate agli antipodi sono fabolose. Non c'è problema come ci è arrivato, perché ci è arrivato, quanto ha navigato, tutto favola. Lo stesso benvenuto da Imola che si concentra sullo simolo luce, oscurità relativi ai versi d'anteschi. Ma nell'Ottocento qualcosa cambia e a partire dalla pubblicazione di un breve libretto di Giovanni della Valle, ecco che iniziano a uscire fuori dei problemi spaziali della valle. A proposito di quella montagna incontrata nell'ultimo viaggio da Ulisse, sostenne che essa non poteva essere il purgatorio. Ora, l'ipotesi non è del tutto sbagliata, potrebbe anche essere vera, perché in effetti Dante, in quell'occasione, non è che dice è il purgatorio, oppure successivamente non è che dice questa è la montagna dove è arrivata Ulisse, cioè non c'è alcuna traccia, è ambiguità come al solito. Ma qual è il ragionamento di della valle? Della valle dice che nel corso del suo itinerario Ulisse non poteva essere arrivato sino al purgatorio, perché si era fermato all'Equatore, dove poi naufragò. Quindi non poteva essere il purgatorio perché sennò il purgatorio doveva essere collegato all'Equatore. Come arrivava a questa conclusione? Basandosi su un'idea folle che, remando, non poteva colmare quella distanza che viene descritta da Dante. Se applicare la scienza, la poesia, oggi ci appare un'ingegno. Ma ci appare, a me sembrano ingenue anche le risposte appena successive, tipo Scartazzini, che invece dice, no, beh, tutto sommato sono 2050 miglie. Purgatorio, catice, 2050 miglia. Ti metti di buona lena, ci arrivi. Quindi, se Ulisse e i compagni, leggo da Scartazzini, navigarono cinque mesi o 150 giorni dopo essere partiti da Cades, catice, essi dovranno fare giornalmente 13 miglia di viaggio per giungere a piedi del monte del purgatorio. Non è che si preoccupi, è un problema simbolico. Guarda, su 13 miglia al giorno le distanze regolano. Ma che ci importa, voglio dire? Non dissimili furono i calcoli di Giacomo Poletti, fondati sulla questio di Agua e Terra, tesi a dimostrare che la montagna intravista da Ulisse era certo quella del purgatorio, ma anche a dimostrare che le distanze descritte da Dante nella commedia erano un po' confuse. Cioè Dante, sì, sbaglia un po' nella commedia, però nella questio è più puntuale, quindi il viaggio va bene così. Davanti a questi compoti aritmetici, con la sacacia che spesso lo contraddistinse, Francesco Dovidio si chiese, se il purgatorio non è che una montagna nell'oceano, non vi si potrebbe un giorno, a furia di buoni remi e di coraggio, approdare i viventi? Giustamente, Dovidio fa una battuta, logico, dice, beh, se ci possiamo arrivare, arriviamoci insomma. Rispolverare questi accesi di battiti non è un'operazione frivola, né mi va di andare a fare le pulci a uno studio sottocentesco, che buona pace, spero, riposi in tranquillità, magari proprio sul purgatorio. Ma questi studi, da una parte, dimostrano la passione, no? Che tutto sommato la commedia scatena e ha scatenato, ma dall'altra, e qui c'è un piano scientifico, a mio avviso sono utili anche per capire come la commedia è stata recepita nel tempo. E noi da quel modo di recepirla, tutto sommato, o a favore o no, deriviamo. Ad esempio, proprio sulla geografia, c'è da dire che quegli studi hanno influenzato chi? Benedetto Croce, che a proposito di quei calcoli, li definì addirittura uno spreco di acume. Ma, insomma, Croce formulò un giudizio molto complesso, che però è parzialmente condivisibile, attuale, credo, che vorrei però recuperare per intero. Dice Croce, c'è, quel che è peggio, un preconcetto, in quest'ardore di ricerche sulla topografia fisica e morale dei tre reti, che cioè tali nozioni concorrono a determinare, a far comprendere e gustare l'arte di Dante. Ma poiché la struttura che abbiamo, sommariamente delineata, non nasce da motivo poetico, sibbene da un intento di tascalico e pratico, essa può dare solamente ciò che è nella sua natura, connessioni strinseca alla poesia e determinate le ragioni strutturali. Ogni sforzo che si farcia per convertire queste ragioni in ragioni estetiche è sterile e spreco di acume. Naturalmente, dietro questo giudizio c'è la grande polemica di Croce verso Dante, cioè la struttura non va bene, di fatto vanno bene i momenti poetici. Ora, in un certo senso questo giudizio è anche divertente nella sua sapidità, ma è solo parzialmente condivisibile, perché, come ho detto prima, prendiamo il caso di Damietta, da una parte bisognerà, diciamo, accordare una ragione al filosofo, al grande filosofo della tradizione culturale italiana estetica, perché tutto sommato non si può cercare di vedere in Damietta un riferimento puntuale, cartografico, preciso, scientifico, d'altro canto però la disciplina storico-geografica ci dà una chiave d'accesso a cosa? Al simbolismo dantesco, che è quello che ho provato un po' a dimostrare prima. Come ha scritto James Rume, è una biografia simbolica che misura il sistema classico creando una rottura tra il confine tra verità e fiction. Secondo lo studioso, la disciplina geografica creerebbe addirittura un collasso del critical canon avvenuto attraverso la rilevabile fluttuazione tra verità e finzione. Questo paradigma è valido soprattutto per Dante, il quale non si fa scrupoli nel piegare i dati e quindi nell'unire, proprio attraverso il paradiso terrestre, due tradizioni assai distanti tra loro, quella cristiana e quella classica. Ritorno al punto che avevo lasciato sospeso. Come si ricorderà, l'Eden viene raffigurato da Dante attraverso una figura misteriosa, cioè Matelda. Bella donna, compie un'ampia tradizione esegetica, troppo frettolosamente impegnata nel ricercare delle tracce, degli indezzi utili, accordarle a un'identità storica. Con il passare dei secoli si è rafforzata l'idea che dietro lo spirito abitatore del bosco del Purgatorio si celasse un personaggio esistitore al mente, Matelda di Canossa, Matilde di Hackebo, qualcun'altra figura. Devo dire che Marco Ariani ha dato invece una visione allegorica molto forte in alcuni studi, secondo me, più che persuasivi, e che quindi Matelda altro non sarebbe che la sapienza, sapienza celeste. Come che sia, Matelda svolge una complessa funzione di accoglienza. E lei infatti a sancire la novità dell'ingresso dei tre poeti, «Voi siete novi», verso 76 di Purgatorio 28, e anche a descrivere l'ambiente che circonda i tre poeti, definendolo come il loco dove il sommo ben, Dio, creò l'uomo buono, versi 91-93. L'uomo che all'uomo sarebbe stato affidato quello dell'Ete. L'allusione di Matelda disambigua ogni possibile interpretazione dello spazio circostanziale, Dante, Virgilio e Testazio, si trovano nel giardino del paradiso terrestre. Una volta sciolto il dubbio di Dante sulla presenza di eventi in quel luogo, derivati dal moto delle sfere celesti, ecco Matelda sapienza a descrivere quindi altre caratteristiche del giardino. In questo modo, ella non manca di sottolineare ancora una volta quell'identità, ribadita attraverso l'elenco delle meraviglie naturalistiche che lì sono collocate. Giardino di ogni semenza, ci sono i fiumi santi. Questo portato retorico è funzionale all'alto sincretico, puntualizzato e portato avanti da Dante. Il giardino viene così rivestito, quasi per negazione, di una seconda identità, più sottile. L'Eden era il Parnaso del mondo antico, quello che i poeti credevano al Parnaso. Furgatorio 28, 138, 141, quelli che anticamente poetaro l'età dell'oro e il suo stato felice, forse in Parnaso è sto loco sognaro. Non si tratta di sottolineare l'ovvio, ma di ricordare come la geografia dantesca sia parte di un disegno culturale e quindi simbolico, di chiara evidenza. Una dinamica che viene poi rilevata dal riso dei due poeti che accompagnano Dante. E si noti il possessivo miei, che evidentemente non sottolinea soltanto lo stato di compagni di viaggio che Virgilio e Stazio condividono con l'auto, ma anche una proporzione culturale. I miei poeti. Sul significato di quel riso, che Virgilio e Stazio fanno dopo che Matelda ha detto rispetto al Parnaso, sono state espresse diverse interpretazioni. Alcune pure un po' eccessive. Mi ricordo una divertente, datatissima, di Luigi Benassutti, che scrisse che i due paeti ridevano della loro dabbennaggine, perché si erano spagliati, non era il Parnaso. Guarda quanto siamo sciocchi, pensavamo al Parnaso, invece era l'Ebre. è un giudizio divertente, ma in linea con quello che dicevo prima della Valle e via dicendo, è parte di una linea interpretativa che vede nel riso una manifestazione di vergogna da parte dei due poeti latini per aver frainteso i loro sogni. Personalmente credo che il sorriso nella commedia svolga di più una funzione opposta. Orgoglio, manifesta l'orgoglio, la superbia. Pensate a Dante, quando Beatrice guarda Dante, che è fiero per la nobiltà di sangue attraverso il suo amo. Beatrice lo guarda e sorride. Quindi, orgoglio, superbia, piacere, anche derivato piuttosto che imbalanza. Comunque sia, se è proprio necessario dare un'interpretazione all'atto, trovo ancora convincente quella di Carlo Gabner, secondo cui il riso dei tuoi poeti non è accoglienza abbonaria alla prosunta puntura di Matelda, ma illuminazione di Gaudio nel vedere i loro sogni, le loro ombre, farsi cosa salda, il sogno dell'età dell'oro che è tornato più volte. Fluisce nella visione del paradiso terrestre dove certe vaghe intuizioni di una più alta verità che i maggiori spiriti pagani ebbero si sublimano nella divina opera del Dio cristiano. Chiudo la parentesi, ruberò un paio di minuti a Valerio, dedico la mia chiusura su l'unico elemento mancante nella descrizione di Matelda. Matelda non fornisce un'informazione ai nuovi pellegrini. Dove si trova il paradiso terrestre? In merito all'Eden e alla sua collocazione nel mondo descritto dalla commedia, si sono pronunciati in molti. Dai primi lavori di Bruno Nardi si sono via via affiancati saggi e interventi di tanti, evidenti studiosi, Teodor Keci, Brenda Disgligen, Roberta Morosini, Nicola Foschi, Anna Pegoretti e altri. Oggi dunque, diversi dubbi sono stati sanati e posso spingermi a dire che sembrano del tutto chiarite anche le coordinate geografiche dei luoghi fondamentali del poema, coordinate proprie della cultura del tempo in cui tante visse. Rispetto alla collocazione del paradiso terrestre, però mi sembra che esistano due correnti opposte. Da una parte c'è chi, come la Schlichen, propone una collocazione dell'emisfero sud, ricavata dai versi di Purgatorio 1-22-24, io mi volsi a man destra e apposimente all'altro polo, dove il movimento di Dante Viator e di Virgilio segue ora una direzione vettorialmente osposta rispetto a quella tenuta nell'inferno e in linea, citando le parole della studiosa con la teoria geografica di Alberto Magno, proposta nel cielo et mundo e nel natura luoce. In effetti, il viaggio all'inferno era stato condotto verso sinistra. Del medesimo parere anche Anna Pegoretti, che però nota con molta finezza come al tempo di Dante l'opinione più diffusa era quella che voleva il paradiso terrestre in Oriente. Ecco l'Oriente. Sebbene la Vulcata avesse sostituito in Genesi 2-8 la formula ad Oriente con a principio dal principio, tale convinzione restò diffusa intrecciandosi le leggende riguardanti luoghi e popoli meravigliosi dell'Asia e alimentandole. La studiosa poi concentra la sua tentazione su un secondo problema derivato dalla collocazione all'Oriente, cioè se la montagna fosse o meno ancora sulla terra. Non entro nella questione che comunque insomma riguarda Beta, Strabbone, visioni medievali, Tommaso D'Aguino, Alberto Magno. Il problema di cui partivo però non è del tutto risolto. Dante è in linea con la tradizione che voleva il paradiso terrestre Oriente o no? Geograficamente no, in un certo senso. È chiaro che se è quella montagna dell'emisfero sud non può essere a Oriente. Però questa risposta formulata dalla Dinschlichen e da altri prima di lei regge totalmente o è possibile trovare qualche piccola contraddizione all'interno dei versi danteschi che danno a mio avviso contezza della potenza simbolica della Commedia. A me sembra che passato il muro di fuoco che purga l'ultimo peccato di Dante mi riferisco alla prova descritta in Purgatorio 27 la direzione vettoriale del pellicroneggio oltremondano torni esplicitamente a sinistra. Verso 64 del canto 27 viene scritto che la scala scolpita nella roccia della montagna evidente ripresa del modello medievale della scala celeste che rimanda fino a Giacobbe salia verso tal parte che io toglieva i raggi è verso oriente. Se consideri ancora che il sogno di Lier Rachele avviene secondo una perifrisi temporale che include in modo esplicito la pariola oriente e che là logicamente vale alba però il significato come ci insegna Sassur rimane. Il cambio di direzione viene spiegato con il movimento dei pellegrini che evidentemente avrebbero girato per 180 gradi girando piano piano sul monte. tale asserzione è solo deduttiva però non è che Dante dice abbiamo fatto metà della montagna quindi adesso dobbiamo andare a sinistra questo noi vediamo oriente dobbiamo spiegarci questo oriente diciamo beh avrà fatto un giro di 180 gradi si tratta di un utile argomento per far quadrare i conti ma che pone in secondo piano la scelta poetica di Dante ora io lo ripeto è indubitabile che la montagna del purgatorio è da collocare in un luogo imprecisato dell'emisfero sud ma mi chiedo se non è invece possibile pensare che Dante a proposito della collocazione dell'Eden che pur si trova su quella montagna abbia in mente un ragionamento un doppio paradigma due schemi mentali preesistenti visio e scala e che quindi quella montagna paradossalmente è sì nell'emisfero sud ma in parte anche all'Oriente come attesta la tradizione biblica e patristica ricordata dalla Pecoretti su quest'ultima domanda quindi l'Oriente qual'Oriente un Oriente lontano irraggiungibile questa è l'ultima domanda a legge un altro problema a leggerebbe capire cosa è l'Oriente immaginifico e sociale di Dante ma qua non entro perché davvero ci succederebbe un'altra ora sia come sia se Voltaire poteva spingersi con l'affermare che le paradiste rest è oué gesui o meglio ou ilé io mi accontento di ricordare che la commedia è anche un racconto di viaggio sacro esotico lontano una narrazione che come ha scritto Eric Litt per tutti i testi ed epodici antichi è da considerare all'origine della fiction una storia o un'immagine che non è vera o falsa ma che ha uno scopo in sé la commedia narra una storia dove i luoghi fisici come l'Eden conservano una convenzione sospesa una collocazione impossibile tra l'emisfero sud e l'Oriente perché sono il simbolo prima di tutto di un'unione culturale un'Arcadia che è in parte illusoria e dissimile da quella reale pensate all'Arcadia 5, 4, 600 quell'Arcadia esiste certo esiste in Grecia esiste anche no un po' esiste dette in Arcadia eco che cosa la morte anche quel mondo è sfiorato dalla morte ma non è il nostro è il sogno di un vago e disordinato per umanesimo quello di Dante l'utopia come ci ha ricordato Francesco Dovidio che non è certo raggiungibile a colpi di Demi grazie grazie mille Paolo per questa bellissima veramente interessante relazione purtroppo non si possono sentire gli applausi però idealmente te li facciamo veramente tutti una relazione veramente interessante e come sempre oltre che documentata anche molto molto appassionata quindi veramente niente io sono rimasta molto colpita personalmente d'accordo volevo dire che se qualcuno volesse fare delle domande può magari le possiamo raccogliere e forse le possiamo fare alla fine dopo gli interventi dopo l'intervento anche del professor Cappozzo potrebbe essere un'idea e quindi io passerei appunto immediatamente la parola al professor Cappozzo di cui vi dico un po' il profilo di studioso è associate professor of italian e direttore del programma di italianistica dell'università del mississippi è specializzato in filologia materiale e critica letteraria e ha di recente pubblicato il dizionario dei sogni nel medioevo oltre all'interpretazione dei sogni lavora sul concetto di diplomazia culturale tra il mondo cristiano e musulmano nel medioevo e nel rinascimento e si occupa anche di poesia italiana moderna e contemporanea membro del comitato scientifico di diverse collane e riviste letterarie filosofiche e della fondazione Giorgio Bassani è il presidente dell'associazione amici di Leonardo Sciascia e vicepresidente dell'American Boccaccio Association e il codirettore della rivista Annacid italianistica quindi veramente con molta curiosità e con molto con molto rispetto davvero passo la parola a professor Valerio Cappozzo la cui relazione si intitola L'interpretazione dei sogni da Costantinopoli a Dante grazie professore grazie a voi grazie a Paolo per aver per avermi aperto la strada verso i sogni l'utopia o l'ideologia di un mondo migliore di cui Dante se ne è fatto ovviamente autore da questo punto di vista e quindi di scrittore di un oriente occidente che in fondo stanno come Paolo ha detto all'inizio della sua bella relazione sono stati e stanno in continuo dialogo ed è proprio sul dialogo che io vorrei parlare cioè su quanto alcuni elementi culturali folcloristici vengano interpretati e assorbiti dalla cultura occidentale che proviene appunto da quella orientale e i sogni chiaramente sono una via di mezzo perché tutti sogniamo al di fuori delle barriere culturali religiose e ideologiche quindi vi ringrazio molto per questo invito e sono chiaramente dispiaciuto di non essere ad Ancara con voi ma mi legherò a Paolo nel prossimo viaggio quindi spero di conoscervi molto presto e sono comunque appunto molto contento di condividere una parte della mia ricerca che fa appunto riferimento a Dante e il Medio Oriente e in questo caso con particolare attenzione alle tecniche divinatorie arabe che hanno avuto sin dal dodicesimo secolo una grande diffusione in traduzione latina nell'Occidente cristiano e io nel frattempo condivido un PowerPoint che spero si veda vedete bene si vede insomma e dicevo quindi e vedremo come proprio Costantinopoli quindi l'odierna Istanbul sia stato il crocevia delle tecniche di interpretazioni orientali e occidentali quindi un luogo di incontro e di definizione dell'onirologia moderna che nasce grazie a un turco cioè Artemidoro di Daldi nato ad Efeso nel secondo secolo dopo Cristo e vissuto in Lidia nella sua opera enciclopedica in cinque libri cioè l'onirocriticon o in italiano il libro dei sogni come vedete sulla slide Artemidoro riunisce i sogni più comuni grazie alla sua esperienza di viaggiatore per l'Asia minore il Medio Oriente la Grecia e non si limita a interpretare il significato dei sogni più comuni ma distingue la visione onirica da quella illusoria i sogni diretti da quelli simbolici e suddivide i sogni in categorie secondo la loro natura e i loro effetti tra sogni falsi e sogni divini nello stesso momento spiega la concordanza dei sogni con gli elementi naturali il genere maschile o femminile del sognatore il tempo del sognare e fornisce infine una guida precisa sulle modalità di interpretazione è importante distinguere da subito tra onirologia cioè la disciplina che ha come soggetto lo studio dei sogni l'oniromanzia di origine popolare faccio un esempio la smorfia napoletana per capirci e cioè la divinazione basata sui sogni e l'onirocritica ovvero la scienza dell'interpretazione dei sogni e campo di discussione del potenziale rivelatore delle immagini notturne la divisione dei sogni fatta da Artemidoro in cinque categorie vedete in basso di questa slide che sembra complessa ma in realtà spero non lo sia o comunque concentra e riassume secoli di onirocritica e di oniromanzia come vedete comunque partiamo dal basso insomma e così saliamo come la scala di Giacobbe appunto ricordo le ultime parole di Paolo dicevo la divisione dei sogni fatta da Artemidoro in cinque categorie di falsità o veridicità viene introdotta nel quarto o quinto secolo nei commentari di Calcivio al Timeo di Platone e di Magrobio proprio al Somnium Scipionis di Cicerone quest'ultimo è il testo su cui l'onirocritica medievale si basa per avviarsi allo studio del fenomeno onirico i sogni come vedete sono distinti in fantasma cioè altrimenti definiti incubi che avvengono in uno stato intermedio tra sonno e veglia e si presentano attraverso immagini mostruose sono dunque falsi dopodiché abbiamo come vedete l'illusorio in Somnium dove si crede di realizzare un desiderio indotto dalle aspettative del sognante che come tale svanisce al risveglio anch'esso falso invece la categoria ambigua come vedete sulla slide del Somnium è la più usata in letteratura perché contraddistinta da immagini velate la cui ambiguità può essere sciolta grazie alla conoscenza simbolica del sognatore o per la letteratura del lettore l'avisio saliamo sempre su verso il più alto grado di veridicità quindi l'avisio ovvero la chiara manifestazione del futuro e infine abbiamo l'oraculum la quinta categoria che occupa il grado più alto di veridicità e si manifesta in uno stato ambiguo tra sonno e veglia dove la profezia è pronunciata da personaggi autorevoli come nel caso dello stesso Scipione Elemiliano nel Somnium Scipione di San Paolo rapito al terzo cielo di Maometto nel Libro della Scala o appunto nella Divina Commedia di Dante Alighieri d'altronde i sogni e le visioni contraddistinguono sappiamo le religioni ebraica cristiana e islamica fondate sul principio di rivelazione divina chi è capace di interpretare i messaggi inviati dalla divinità sarà considerato l'eletto cioè il profeta e avrà il compito di riportare per iscritto la propria esperienza mistica ancora una volta San Paolo Maometto e Dante per esempio la scienza dell'interpretazione dei sogni e la pratica popolare oniromantica diffuse nei paesi arabi come nell'occidente latino rispettano l'origine classica dell'onirocritica aristoterica e platonica concentrata sin dall'inizio sull'indagine delle cause fisiche e intellettive dei sogni e la loro qualità prognostica i sogni nel medioevo sono identificati secondo diverse teorizzazioni che ne analizzano le qualità divinatorie distinguendoli come abbiamo appena visto tra sogni falsi e quelli veri durante l'epoca patristica e quindi nell'alto medioevo si comincia a valutare la responsabilità morale del sognatore e si ragiona su quale modo in quale misura l'uomo possa fare esperienza durante l'attività onirica di una mistica compenetrazione tra il mondo terreno e il divino per fare degli esempi nel De Anima di Tertulliano il sogno viene considerato come vero e proprio atto conoscitivo in cui l'uomo può arrivare a Dio o essere ingannato dal diavolo nel momento in cui l'anima nel sonno si libera dal peso del corpo e quindi è più adatta all'elevazione come atto conoscitivo e rivelatore Sinesio di Cirene nel Desomnies ritiene che ognuno dovrebbe essere in grado di interpretare i propri sogni e dal punto di vista della scolastica Sant'Agostino nel Genesi Ad Litteram distingue tre specie di visioni corporale spirituale intellettuale che sono concomitanti tra di loro ai fini dell'intuizione che avvia all'interpretazione dei sogni Gregorio Magno per esempio differenzia nei morali e nei dialoghi le diverse tipologie di sogni dagli illusori o demoniaci ai rivelatori e quindi divinatori mentre Isidoro di Siviglia nelle sentenze avverte della pericolosità demoniaca di alcuni sogni che sono generati da pulsioni fisiche rilasciate dal corpo durante la notte cioè quando la mente non è controllata dalla ragione e protetta dalla morale diversi sono i testi uniromantici che circolano nell'impero bizantino come i libri da Strampsikos io vedete sto seguendo un po' la slide quindi vi lascio ritrovarvi all'interno e dicevo quindi nell'impero bizantino uno dei primi libri dei sogni è quello di Strampsikos e quello del patriarca di Costantinopoli di Ceforo così come quelli in ordine alfabetico generalmente attribuiti a Giuseppe e a Daniele Daniele è il profeta biblico che con le sue interpretazioni dei sogni del re Nabucodonosor viene scelto come autore del Somniale Danielis ovvero il libro dei sogni di Daniele Profeta il prontuario che diventa la chiave dei sogni più diffusi e più consultata durante i secoli anche senza il riferimento esplicito al profeta per esempio la censura ecclesiastica leverà il titolo perché non vuole ovviamente che si associ voglio dire un libro dei sogni a un profeta biblico nel dodicesimo secolo come dicevamo prima vengono proposte nuove teorie di interpretazione e l'unirocritica acquista un maggiore spessore scientifico grazie all'integrazione di dottrine arabo-islamiche ovvero orientali si presta quindi attenzione alle condizioni fisiche del sognante a quelle meteorologiche alle congiunzioni astrali alle indicazioni temporali e quindi si interra conoscenze quali la medicina l'astronomia l'alchimia e la geomanzia per interpretare un processo naturale in rapporto alle condizioni interne ed esterne al soggetto mi permetto una veloce parentesi sulla differenza della psicolanalisi freudiana che invece concentra l'analisi dei sogni su una proiezione interna della simbologia del vissuto di ognuno di noi mentre nel medioevo diciamo o comunque nella storia pre psicanalisi si tendeva a proiettare all'esterno e quindi a cercare la simbologia delle pulsioni interiori attraverso gli elementi esterni appunto questa tradizione ovvero quella arabo-islamica che porterà altre scienze come abbiamo detto medicina alchimia per esempio per l'interpretazione dei sogni questa tradizione è accolta e sviluppata nella tradizione in latino del libro dei sogni di Ahmed Imsirin fatta da Leo Tuscus proprio a Costantinopoli nel 1176 e in cui vengono considerati le tradizioni indiana persiana ed egiziana di interpretazione la traduzione in latino del libro di Ahmed fatta appunto da Leo Tuscus fine conoscitore delle teorie interpretative arabo-islamiche rappresenta uno dei modi più significativi di importazione delle teorie bizantine arabe per il mondo poi cristiano e dunque per Dante nel prologo di questo libro di cui vedete sia l'edizione a stampa che manoscritta di un manoscritto ricardiano 859 qui di Firenze nel prologo il traduttore italiano che è di Pisa Leo Tuscus afferma che dopo aver faticato a lungo per trovare delle interpretazioni dei sogni che fossero in qualche modo esaustive gli fu regalato il libro dei sogni di Ahmed che analizza le visioni secondo la tradizione abbiamo già detto indiana persiana ed egiziana la traduzione di questo libro gli fu commissionata dall'imperatore bizantino Manuele I Comneno desideroso di imparare nuove tecniche di decifrazione per accrescere il desiderio di conoscenza ed essere dunque in grado di indagare la realtà vedete io prima ho detto l'oniromanzia a livello popolare ma popolare e del popolo fanno parte sia la gente diciamo comune come siamo come noi e come gli imperatori nello stesso momento quindi supera qualunque classe sociale l'interpretazione dei sogni con questa finalità cioè il desiderio di conoscere la realtà Leo Tuscus indica gli elementi che ritiene più importanti affinché l'imperatore possa imparare da sé e interpretare i sogni e dunque a indagare il vero sperimentando il desiderio di sapere che come sottolinea viene accresciuto dai sogni nel testo di Ahmed Leo Tuscus nota che bisogna considerare le stagioni in cui si hanno le visioni notturne perché possono modificare il significato così come sono da considerare anche le fasi della luna e la rotazione delle costellazioni durante le ore della notte per calcolare le quali si devono conoscere le basi dell'astrodugia e i simboli alchemici associati ai pianeti sono praticamente parafrasanto quello che vedete sulla slide a destra cioè l'introduzione in manoscritta in questo caso del codice ricardiano pur riconoscendo che le interpretazioni contenute nel libro non sono infallibili Leo Tuscus sottolinea che attraverso i sogni Dio invia all'uomo un'ammunizione che deve essere compresa attraverso l'abilità di chi sa interpretare i sogni l'interpretazione dunque non serve a conoscere i giudizi divini ma a contemplare l'eccellenza divina in ogni cosa e forma in cui si manifesta a questo prologo segue la spiegazione di 199 sogni che vengono analizzati secondo le tre tradizioni indiana persiana ed egiziana per un totale quindi di 597 varianti torniamo alla slide di ricostruzione dell'onirocritica a lungo dall'epoca classica al medioevo sempre da oriente e occidente nella religione islamica il sogno è parte integrante del messaggio profetico maometto e permette il contatto con il sopranaturale per questo motivo l'onirocritica è considerata una scienza religiosa e la responsabilità morale del sognante non è posta in primo piano ma lo è invece la sua abilità interpretativa l'opera di Artemidoro di Daldi viene nel nonno secolo tradotta in arabo Dauyain Ibn Cishak nell'ottocento settantasette e assorbita nell'importante libro dei sogni abbiamo detto di Ahmed Ibn Sirin proprio quello tradotto da Leotuscus in latino e nell'opera dei Aldivanari dove si dichiara che tutti i sogni sono di origine divina e qualora apparissero demoniaci devono essere considerati come prove inviate da Dio al sognante per misurare la sua integrità morale come vedete ho cerchiato in rosso il somnale Daniele in cui tutte queste tradizioni confluiranno e infatti tutta questa tradizione di cui ora abbiamo brevemente riassunto la storia confluisce ovvero si incontra nel libro dei sogni di Daniele Profeta o in latino il somnale Danielis il prontuario dei simboli onirici più comuni disposti in ordine alfabetico composto in greco intorno al quarto secolo dopo Cristo tradotto in latino nel settimo e dal nono in arabo e nei maggiori volgari europei questo libro dei sogni ingloba e costituisce il filo rosso dell'interpretazione dei sogni dall'antico Egitto a oggi quindi diciamo il modo in cui le persone interpretano i loro sogni per almeno un arco di 3200 anni e qui ho messo appunto Papiro Egiziano un manoscritto Beneto del quattordicesimo secolo e una pagina web che anche oggi potete consultare ad Ankara proprio in questo momento quindi come vedete sia la forma sia la facilità di consultazione che il metodo interpretativo rimane coerente in un arco di storia enorme se prendiamo un simbolo a caso cioè per esempio sognare i denti che cadono che è un sogno comune nel tempo vediamo la coerenza assoluta dei significati durante le epoche anche in parti del mondo diverse tra loro come vedete quindi per esempio in Egitto se un uomo vede se stesso in sogno mentre gli cascano giù i denti significa la morte dei suoi sottoposti dente vado nell'undicesimo dodicesimo secolo per fare un salto dente si di cadere dei parenti poseio sali qui smorietor significa faccio un altro salto per l'edizione a stampa del sedicesimo secolo denti tutti perdere significa morte dell'uamico o parente vado alla smorfia napoletana nel diciottesimo secolo sognare dente che cade perdita di persona cara tredici ecco la grande novità l'aggiunta di un numero per rendere i sogni anche fruibili tra gli analfabeti coloro che non potevano appunto aprire libri di sogno ma che attraverso un numero potevano memorizzare il sogno e giocarlo sulle ruote della fortuna cioè le ruote dell'otto nel duemila e ventuno ancora una volta dente che cade perdita di persona cara con una minima variazione nel numero in questi secoli di storia oltre a mantenere le tradizioni del passato e a predisporre quelle del futuro si assiste a un graduale potenziamento delle tecniche interpretative grazie soprattutto all'apporto dell'orinocritica prima bizantina e poi araba e si assiste anche a un processo di riduzione di semplificazione dei significati paragonando il significato di alcuni simboli presenti in Artemidoro con quelli del libro di Ahmed e del somnale Danielis notiamo una progressiva riduzione delle varianti del simbolo e della sua interpretazione e quindi come vedete Artemidoro di Daldi leggo solo quello che ho messo in grassetto a seconda dunque del dente che uno perde sarà privato della persona corrispondente ma prima spiega che cosa vuol dire la bocca significa la propria vita e quindi i denti incisivi per esempio sono le persone più importanti i genitori per esempio e così via via le persone più laterali quelle sotto le persone di una importanza inferiore eccetera quindi la caduta di uno di questi può significare la morte Ahmed cosa fa? lo stesso ragionamento quindi se sogna se uno sogna che uno di questi denti cade il parente più prossimo muore ma lo sta facendo appunto secondo la tradizione indiana prima e poi persiana ed egiziana con stesso significato ma il somnale Danielis senza fare troppi giri di parole alliva direttamente al significato questo percorso di semplificazione è efficace dal punto di vista consultativo e mnemonico ma non riduce l'intensità interpretativa che gode comunque di diversi livelli di lettura anche nei manoscritti o nell'edizione a stampa è evidente la riduzione delle parole ed è importante sottolineare ancora che la derivazione geografica della simbologia onirica proviene dall'India dalla Persia dal Medio Oriente e si stabilizza nel Mediterraneo per continuare verso il Nord Europa un percorso secolare fatto da diverse menti e culture diverse religioni e società ma che tutte insieme hanno lavorato per definire il più possibile lo strano e imprevedibile fenomeno del sogno o per dirla con le parole di Paolo un dialogo continuo e perenne e frittuoso aggiungerei no scusate Costantinopoli come vedete l'ho messo in un rosso un po' più chiaro Costantinopoli è il punto d'incontro di queste tradizioni grazie al lavoro di Leotuscus e di altri interpreti come per esempio Pascalis Romanus che compone Liber, Tesauri, Occulti sempre a Costantinopoli ma quali simboli contengono l'opera di Artemidoro di Achmet del somminale Danielis contengono i simboli più comuni infatti le peculiarità della secolare interpretazione dei sogni racchiusa poi nel somminale Danieli sono nella smorfia napoletana come abbiamo visto sono però prima di tutto la coerenza simbolica e poi la semplicità del funzionamento interpretativo basato su un'equazione elementare sogno X significa Y ovvero sogno un'aquila significa onore e infine l'aderenza al reale che hanno sia i simboli sia le interpretazioni contenute nei libri di sogni in essi cioè i libri dei sogni non sono presenti elementi immaginifici tranne l'eccezione di qualche codice vergato in ambiente ecclesiastico che aggiunge una simbologia religiosa con voce quali angeli resurrezione per esempio ma se leggiamo con attenzione la lista dei sogni che fanno parte del somminale vedremo gradualmente formarsi di fronte ai nostri occhi una realtà quotidiana niente affatto fantastica come ci potremmo invece aspettare trattandosi di visione è importante affermare che il medioevo ricorre all'immaginario e al meraviglioso quando tenta di interpretare la realtà ma quando deve decifrare le immagini fantastiche e razionali dei sogni ritorna sul piano concreto del reale per spiegare i simboli e i messaggi contenuti nelle visioni scorrendo il somminale ci apparirà così una realtà fatta di case di castelli di torri di chiese di ponti che attraversano fiumi laghi o precipizi ai margini di foreste di boschi e selve popolate di animali feroci e diversi alberi fiori e rocce nei villaggi gli uomini le donne i sacerdoti e i monici si nutrono di formaggio di ceci di fave di ciliegie e bevono acqua assenzio vino allevano animali come cavalli buoi capre e pecore mentre nel cielo volano rondine aquile e falchi ogni giorno si fa normalmente uso di oggetti quale pentole bastoni sedie aste chiavi e ci si reca al pozzo alla fontana al granaio vicino alla piazza dove c'è la chiesa principale e da cui si diramano le strade più o meno affollate che passano di fronte al carcere e a diversi negozi al cimitero ai parchi e ai giardini le interpretazioni divise tra positivo e negative sono anch'esse semplici e immediate alcuni sogni possono voler significare letizia allegria buoni affari abbondanza guadagno oppure affanno inquietudine morte disfacimento o tristezza ecco questo mondo descritto dall'immaginario unitico è generico vedete non è circoscrivibile a un'epoca precisa ed è impossibile riconoscere una geografia specifica non si sogna Santa Sofia o non si sogna il Colosseo per esempio e quindi proprio questa sua ampiezza e universalità conferisce autorevolezza al somnale Danieli che ha in sé una visione illimitata della civiltà umana applicabile in ogni momento e luogo della storia e questo ci significa perché per 3200 anni vengono adottate lo stesso tipo di interpretazione per adattarsi ai tempi vengono aggiornati simboli lungo le diverse epoche come per esempio la voce imperatore che in chiave moderna è sostituita con cariche politiche equivalenti ma vediamo un attimo quali sono appunto i simboli che io le ho sforzo velocemente ma quali sono i simboli onirici comuni tra animali vedete l'agnello l'anguilla l'ape o gli oggetti d'uso comune quindi l'ago l'aratro l'asta il bicchiere e così via oppure le parti della casa il bagno il cancello la colonna la fontana il forno o le parti del corpo la barba le braccia i capelli il collo e così via sono presenti persone e professioni quindi dall'abate all'amico alla regina alla vergine o i luoghi naturali come un bosco una fossa un giardino un'isola o luoghi architettonici la scuola una torre o i capi d'abbigliamento la berretta le bracche i calzari o i mezzi di trasporto la barca la carrozza la nave e così le piante i fiori e così le pietre preziosi metalli ed elementi i colori le azioni azioni anche queste l'affrettarsi l'allattare l'ammalarsi il camminare il ballare eccetera e così i significati più comuni e quindi anche i significati contenuti nel somminale di Danielis a differenza di quelli contenuti in Artemidoro e Nachmet che come abbiamo visto sono più complessi perché prendono in esame anche le azioni che succedono all'interno dei sogni e quindi le circostanze particolari che può avere un sogno invece questi appunto sono più immediati più fruibili appunto e quindi questo per darvi una idea di quello che era l'interpretazione dei sogni all'epoca ma finalmente arriviamo a Dante nella letteratura italiana delle origini la tematica del sogno nasce con le tensioni di Dante Alighieri e di Dante Damagiano e questo è il sonetto a ciascun'albapresa e gentilcore che appare all'inizio della vita nuova e viene inviato prima che la vita nuova venga conclusa ad altri rimatori affinché ne siano gli interpreti il dibattito si sviluppa intorno alla tematica del sogno fino a definire le discordanze stilistiche tra la generazione di stampo guittoniano di cui Dante Damagiano per esempio fa parte che non contempla l'utilizzo di schemi simbolico mistici e la nuova generazione che formerà da lì a breve il dolce stilnovo dal punto di vista interpretativo questo dibattito poetico marca la differenza marca la differenza tra chi non dà alcun valore ai sogni e che invece li userà come spediente per conferire alle proprie opere un carattere profetico guardiamo Dante e infatti nel progetto dantesco che va dal primo libello ovvero dalla vita nuova alla commedia il sogno è parte della struttura narrativa non è solo episodico è parte della struttura narrativa che esige uno stile simbolico affinché la poesia sia testimonianza della contemplazione spirituale e dell'esperienza diretta del divino concordemente alle autorie oniriche bizantine e poi arabe di cui abbiamo parlato la mirabile visione che Dante avrà in conclusione della vita nuova si svilupperà sino al paradiso passando prima per l'inferno in cui il simbolo si presenta in tutta la sua potenza drammatica passando poi per il purgatorio in cui i sogni le visioni estatiche e la processione allegorica del carro trionfale della chiesa all'albero di Adamo a cui assiste Dante insieme a Matelda a conclusione della seconda cantica rendono la simbologia sempre più stratificata e questo in preparazione alla ricezione del simbolo puro del paradiso il sogno quindi equivale a un esercizio interpretativo per il personaggio Dante come per il lettore così da essere a un certo punto pronto a leggere il paradiso capendone la metafora in letteratura il sogno ha anche la funzione di anticipare come nella realtà il sogno anticipa il futuro in letteratura ha la funzione di anticipare alcuni passaggi strutturali narrativi per tenere il lettore concentrato e consapevole appunto dello sviluppo narrativo nel purgatorio come sappiamo ci sono tre sogni il sogno dell'aquida in purgatorio 9 il sogno della femmina balba in purgatorio 19 e quello di lì sulla soglia del paradiso terrestre il purgatorio 27 non mi soffermo sulla sulla numerologia che come vediamo è molto ben tripartita all'interno dell'ascensione per un purgatoriale nel purgatorio l'unica cantica in cui chiedo scusa nel purgatorio essendo l'unica cantica in cui è presente il concetto di tempo e quindi dove la notte succede al giorno vediamo come Dante utilizzi le conoscenze astronomiche per inquadrare gli argomenti dei sogni e i simboli provenienti dal somnale Danielis per rendere immediatamente comprensibile la lettura del testo a tutti proprio perché tutti sognano nel primo sogno purgatoriale che avviene all'alba rispettando le teorie secondo le quali dopo la digestione possono manifestarsi sogni veritieri un'aquila rapisce il personaggio in cielo ed essa è figura del viaggio ascensionale che il pellegrino sta per intraprendere non mi posso soffermare sulla lettura di tutti i canti sarebbe bello ma ovviamente prenderebbe troppo tempo nel secondo sogno appare invece la femmina balba una donna deforme che si trasforma in dolce serena non appena gli occhi di Dante si posano su di lei rappresentando l'ingannevole seduzione dei beni terreni in questo sogno il quadro astronomico è assai più complesso e viene inserita una scienza divinatoria araba cioè la geomancia con due figure tra loro controposte fortuna mayor e fortuna minor per sottolineare il carattere oppositivo del sogno stesso infine prima del terzo guardando come Paolo già ha ricordato le stelle più luminose del normale data la rarifazione dell'area ad alta quota la vicinanza al cielo siamo sulla soglia del paradiso terrestre Dante contempla la sua prossima meta ascensionale ovvero la sfera del fuoco lì dove l'aquila del primo sogno sembra averlo portato le stelle termine chiave che segna la fine dei percorsi relativi ai tre regni sono adesso sono ora oggetto di contemplazione dove dal ricordo di questa scena scatolisce nel momento in cui verrà scritta e quindi a viaggio concluso una nuova conferma della qualità premonitrice e divinatoria dei sogni cito il sonno che sovente anzi che il fatto sia sa le novelle purgatorio 27 92 93 in questo sogno si manifesta l'IA simbolo della vita attiva che sarà di aiuto a Dante per fare finalmente il passo decisivo ed entrare nel paradiso terrestre uscendo dai pericoli infernali e purgatoriali se rileggiamo questi sogni questi tre sogni datteschi consultando proprio il somminale Danielis vediamo che a guglia sopra se vedere onore significa cioè la buona riuscita del viaggio femmine vedere morte significa ovvero il pericolo in corso nell'incontro con la femmina balba e fiori torre o cogliere il nemico guardarsi significa come l'IA infatti raccoglie i fiori e Dante può dunque guardarsi dai nemici e avanzare verso l'uscita delle discordie entrando nell'Eden nell'Eden aggiungo visto che Paolo ha ricordato Matelda dove incontrerà Matelda che sta raccogliendo i fiori per farsi una corona chissà una corona poetica o comunque Matelda la realizzazione in visione del sogno di LIA e questo credo che sia il collegamento che porta all'interno dell'Eden secondo il somminale Danielis come già visto in precedenza abbiamo detto quindi che l'aquila significa odore la donna significa pericolo di morte e segnare raccogliere i fiori quindi all'uscita dalle discordie i simboli di questi sogni l'aquila la donna e i fiori come fallita nel suo sogno sono contenuti appunto nel somminale Danielis ma Dante non è l'unico a fare uso del somminale di Danielis per rendere comprensibili a largo raggio diciamo i simboli dei suoi sogni molteplici sono gli episodi onirici nelle poesie di Cecco d'Ascolo di Petrarca di Boccaccio e tutti rispettano le teorie nirocritiche classiche e medievale e propongono nelle loro opere simboli appunto niromantici cioè contenuti nel somminale Danielis con un impianto narrativo basato sui sogni e visioni insomma la letteratura della nuova lingua volgare utilizza simboli facilmente riconoscibili da lettori attraverso la conoscenza dell'interpretazione dei sogni per rendersi comprensibile appunto a un pubblico più vasto e su questo costruire la propria poesia e renderli piano piano meno semplici Boccaccio utilizza il somminale Danielis nel Decameron dove i sogni servono ad anticipare la seconda parte delle novelle dove sono inserite abbiamo già detto che possono anticipare parti strutturali della narrazione per esempio la visione avuta dall'esabetta da Messina può essere analizzata come abbiamo fatto per i sogni danteschi ovvero la giovane vede in sogno il suo amato Lorenzo che le racconta di essere stato ucciso dai fratelli di lei e le indica il posto dove è sepolto e dove lei preleverà la sua testa per averlo sempre accanto a sé nel somminale Danielis leggiamo col morto favelare significa lite proprio la lite lo scontro che avrà con i fratelli dopo la confessione in sogno di Lorenzo e dopo che essi scopriranno che lei conserve in un vaso di basilico il capo dell'amante nella novella successiva a Gabriotto il quale non crede affatto ai sogni vede una capra e un cane e al risveglio dopo aver raccontato ciò che ha visto all'amata Andreuola muore improvvisamente per il somminale Danielis capra vedere significa spazzamento cioè col significato di essere spazzati via e dunque morire oppure cane vedere significa nemici di morte significa dei nemici morti e ovviamente la morte sarà l'argomento che dovrà gestire la povera Andreuola nella seconda parte della novella il sogno di Talano Dimola che prevede il futuro pericolo della moglie aggredita da un lupo la quale non prestando fede alla visione del marito va incontro alla propria sciagura si ritrova nel somminale Danielis a vedersi prendere da lupo significa trattamento d'inganno a quell'appunto della moglie per essersi dimostrata incredula e così va incontro alla sua tragedia proprio per non aver prestato fede al sogno del marito che prevedeva esattamente l'attacco del lupo un altro significativo esempio è Cecco d'Ascoli già citato da Paolo che nell'undicesimo capitolo del quarto libro della Cerba ragiona sul sogno e la sua relazione con l'astrologia sul modello appunto bizantino e arabo l'autore distingue tre sogni fantastici e contemplativi i primi scaturiti dai nostri desideri e dunque vaghi come avevamo visto prima insomma quel che la mente nostra purdisia e che corrispondono alle categorie di Artemidore poi di Macrobio dell'insomnium appunto quelli contemplativi di tipologia di sogno che dal cielo procede coincidono con i sogni profetici delle categorie di somnium visio e oraculum per questo è necessario conoscere la posizione della luna nella costellazione presente al momento del sogno per valutare correttamente il significato della visione dispensatore dei sogni e dio della poesia vedete già l'associazione tra sogni e poesia è Apollo al quale il poeta Cecco d'Ascoli si richiama affinché lo renda disposto a comprendere come nasce il sogno a questa invocazione seguono degli esempi presi direttamente dal somminale Daniele come vedete nella slide perché chi sogna di gironudo e scalzo per lo gran fango questo gli dimostra orribile peccato e non è falso nudibus pedibus ambulare detrimento significa e di giacersi sogna carnalmente con madre o con sorella tu vedrai che conviene che in quell'anno sia dolente con madre con cubere sicurità significa con sorore con cubere significa tutti questi manoscritti chiedo scusa tutti questi esempi sono hanno un riscontro nella produzione materiale manoscritta ovvero nella Martelli 12 Fiorentina alla fine del XIII inizio XIV secolo dopo il somminale in latino e la prima volgarizzazione del somminale in italiano ci sarà la vita nuova quindi il copista capisce evidentemente che un libro dei sogni può avere una funzione esegetica e dunque interpretativa della letteratura stessa nel Rossiano 947 alla fine della copiatura del Decameron c'è il libro dei sogni di Daniele e a questo manoscritto Lashburnam 1724 della lavenziana sempre di Firenze copiata la cerba alla fine il copista aggiunge esattamente questo somminale quindi come vedete sia a livello letterario di associazione tra letteratura e sogni ma anche a livello materiale e cioè il copista i sogni vengono subito dopo o prima la letteratura perché perché se uno riesce a interpretare i propri sogni riesce dunque a svegliarsi ad avere quindi coscienza di sé come quando si legge la poesia ognuno di noi ha la sua forma di interpretazione ma se riusciamo a interpretarla entriamo in contatto al significato che l'autore ci vuole dare per concludere abbiamo visto che durante il Medioevo l'uomo è riuscito a implementare le sue conoscenze approfondendo l'immaginazione onirica intesa come risorsa umana per tentare l'evoluzione spirituale e il congiungimento con le spere celeste Dante chiaramente ne è il rappresentante più significativo in letteratura e filosofia e altre scienze o altri saperi colui che inaugura una serie di opere basate sul sogno e sulla visione intese come possibilità di penetrare e conoscere meglio la realtà dalla vita nuova in questo caso alla Divina Commedia tutto questo è stato possibile grazie a Costantinopoli cioè grazie all'incontro delle culture bizantina e araba con quella latina che hanno saputo condividere al di fuori di tutti gli scontri politici e religiosi le crociate ricordate da Paolo hanno saputo condividere tecniche e saperi con il fine di comprendere il sogno cioè quel particolare evento a cui tutte le società hanno posto attenzione al di là delle barriere religiose culturali e ideologiche vi ringrazio eccomi eccomi qua dunque ovviamente io ringrazio tantissimo il professor Cappozzo per questa relazione per me veramente interessante devo dire anche illuminante visto che tratta un argomento apparentemente così vicino a ciascuno di noi e poi invece ricco di tutti questi risvolti che probabilmente nessuno di noi pensa se non quando dovesse essere come nel suo caso un esperto uno studioso di tutto questo io volevo mi permetto di diciamo di come dire di parlare di fare una domanda prima di tutti gli altri e le chiedo professor Cappozzo ma Dante più volte definisce la sua commedia la visione immagino che dietro questo ci sia ovviamente un discorso molto lungo e molto complesso ma le chiedo quindi la visione possiamo intenderla nel senso dell'ultimo o del penultimo non mi ricordo più valore gerarchico da dare ai sogni secondo lei è così magari se ci può illustrare insomma come la vede questa faccenda grazie grazie a lei è senza dubbio così perché abbiamo detto che l'oraculum e la visione vengono il messaggio profetico viene dato da personaggi importanti abbiamo fatto l'esempio in questo caso Virgilio e tutti coloro che verranno incontrati da Dante sono personaggi importanti cioè nel senso che sono anche in un luogo importante per cui in questo caso Dante segue anche i progetti dell'occupazione cioè vuol dire se il sogno dipende dove il sogno viene fatto se il sogno viene fatto in un luogo sacro avrà automaticamente un significato sacro in questo caso lui ovviamente lo fa nell'aldilà nell'aldilà cristiano per cui è senza dubbio una visione con un valore non mette in discussione questo ma c'è da aggiungere da sottolineare l'ambiguità mi permetto di dire poetica tra sogno e visione cioè l'utilizzo della parola visione l'utilizzo della parola sogno nelle loro declinazioni latino-italiane chiaramente è assolutamente ambico l'uno per Dante vale l'altro infatti la domanda secolare è sempre stata ma la Divina Commedia è un sogno o una visione e credo che la risposta vada trovata nell'incontro dei due e non nella definizione statica dell'uno e dell'altro bene la ringrazio se qualcun altro volesse fare domande può usare sia il tasto delle domande e delle risposte ma anche la chat ci prendiamo qualche momento per vedere se c'è qualche curiosità che qualcuno volesse fare altrimenti per i nostri invece pannellisti potete tranquillamente attivare l'audio io volevo solo fare un'osservazione volevo ringraziare Valerio per la bella relazione tra l'altro insomma sono particolarmente contento perché tutto sommato al di là insomma delle questioni più o meno micro puntuali devo dire che scorgo tanto nella tua relazione non ci siamo coordinati prima tanto nella mia quanto meno un valore importante a livello ermeneutico cioè il fatto che appunto la poesia come hai detto poco fa rispetto a una questione fondamentale della critica dantesca la poesia dantesca è polisemia ma è soprattutto non è statica che è una parola bellissima credo che questo sia un concetto molto molto importante e quindi nulla ti volevo solo ringraziare insomma è un elemento più importante tu hai detto tante cose interessanti che possono essere vicine all'esplorazione nautica del sogno esatto perché tu hai parlato di geografia come spazio quotidiano io ho parlato di sogno come quotidianità degli eventi sì sì capisci il discorso è questo cioè l'associazione tra poesia e sogno e quindi i due i due campi indefinibili sensibile concreto ma questo concreto che però non si concretizza nell'analisi e allora bisogna come dice Leonardo da Vinci a volte che aveva il somnale Danielis in tre edizioni latine e volgare nella sua libreria by the way ma insomma bisogna chiudere gli occhi per cominciare a sviluppare e a vederci meglio ecco vedete credo anche questo come ha detto Paolo bisogna anche sbagliare la geografia per poter arrivare alla metafora e bisogna chiudere gli occhi per vedere meglio una realtà questa è la poesia di io credo di fine medioevo e Paolo ha finito sul preumanesimo e sono d'accordissimo con te cioè l'apertura non è solo la scelta del volgare e lo è senza dubbio ma è cominciare a seguire dei simboli così basilari così condivisibili anche oggi da noi settecento anni dopo perché così ci mette a nostro agio all'interno di un testo che ci porterà per esempio io ho fatto l'esempio dell'aquila che lo rapisce Susi in final fuoco ma l'aquila diventerà parlante in prima persona in paradiso l'aquila nel paradiso terrestre precipiterà sul carro della chiesa vedete quanti passaggi da un'aquiletta semplice che significa onore la buona riuscita del viaggio la semplicità arriverà fino a dichiararsi a noi lettori in paradiso quindi è Dante che ci porta per mano lì come l'errore diciamo così geografo l'imprecisione cosiddetta inizio novecento geografica in realtà serve solo ad allargare le prospettive di un mondo chiuso post feudalesimo e comunale ma sempre ovviamente in sviluppo no ma è la ricchezza permetto solo l'osservazione dell'allegoria in senso tanto quintiliano cioè la continuità della metafora quindi dell'immagine che torna sempre e comunque quanto come mondo che pone dei confini immaginifici e quindi reali quindi totalizzanti e inesistenti allo stesso tempo è la visio che ci dice un'ampissima tradizione non solo quella classica voglio dire la visio respicendi paulina dobbiamo vedere con altri occhi quello che loro hanno scritto con altri occhi e con altre mani ma per me c'è ancora molto lavoro da fare su Dante ma non su Dante su di noi come prospettive di lettura esatto guarda che quello che hai fatto te oggi cioè in realtà hai rimodernizzato non volendolo modernizzare ma semplicemente rileggendo alcune cose cercando di andare avanti attentone sia chiaro nessuno vuole definire ma proprio perché non si voleva definire alla base in qualche modo quella ambiguità che è il fiore della poesia grazie 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 a te va bene io vi ringrazio di nuovo veramente molto sono molto contenta di aver ascoltato queste relazioni che verranno in corso della registrazione verranno caricate sui siti sia dell'Università di Ancara che dell'Ambasciata d'Italia non sono pervenute altre domande quindi lascio un attimo la parola alla professoressa Nevin e poi chiuderemo il collegamento e ci diamo appuntamento a domani alle 11 turche che sono le 10 italiane grazie mille prego professoressa alle 11 45 eh dottoressa perché domani sì sì domani 11 45 no domani ah perché giusto sì sì perché non ci sarà sarà l'intervento del professore Ariani guardate era Luca parlava sì è vero avevamo stato 11 45 no 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 ci vedremo alle 11 perché il professore Ariani avrebbe parlato come secondo c'è stato un cambiamento quindi ci vediamo alle 11 con il professor Marcozzi c'è stato un cambiamento dell'ultima ora perché Luca non poteva più per un impegno istituzionale alle 11 45 ah più alle 11 quindi alle 10 italiane va bene va bene così sono le 11 va bene va bene allora ok eh io vorrei tanto ringraziare sia il professor Rigo che il professor Cappozzo anche per aver messo proprio in prima posizione questa apertura di mente no che ognuno di noi deve avere ognuno di noi che studia all'università no io parlo anche a noi dei miei studenti e di cercare di vedere oltre cercare di trovare le vere ragioni delle cose e di non credere alle classifiche fatte non so attraverso gli anni anche negli anni passati anche nell'antichità tutto questo leggere sì studiare ma poi indagare oltre fare delle ricerche e vedere anche Istanbul come punto di incontro e non di scontro è vero tra due culture tra due mondi tra l'Oriente e l'Occidente come adesso lo è diciamo è una città culturale un ponte culturale e vorrei anche dire a professor Cappozzo che esiste ancora tra noi professore l'interpretazione dei sogni si parla ancora dei sogni una cosa vivissima si discute dei sogni le stagioni sono importanti gli oggetti i simboli è una tradizione ancora vivissima volevo anche aggiungere se posso aggiungere ringraziandola di questo di aver sottolineato questo l'ultimo libro dei sogni che ho trovato non è in una biblioteca ma è sul mio telefono perché ci sono delle app delle applicazioni insomma gratuitamente scaricabili che ancora fanno riferimento al somnale di Danielis oppure c'è l'opzione che si può scegliere l'interpretazione freudiana quella freudiana riporterà ai nostri le nostre nevrosi quelle altre invece proietta fuori e quindi tutto diventa una ricerca del mondo appunto e i cambiamenti appunto le stagioni eccetera eccetera diventano importanti per poter capire come il sognatore dove viene dove avviene il sogno e quindi dove si può localizzare addirittura a livello cosmico perché ci sono le costellazioni eccetera quindi continua come dice lei questa tradizione addirittura ormai sugli smartphone quindi credo che sia comunque interessante segnalarlo perché è un passo in avanti verso il futuro del sogno di Danielis attualissimo quindi ancora grazie grazie a lei bene allora saluto tutti vi ringrazio di averci ascoltato e spero di vedervi domani sempre vedervi tra virgolette domani nelle prossime sezioni del nostro seminario grazie mille grazie a voi buona giornata buona giornata arrivederci grazie ancora arrivederci arrivederci grazie a tutti grazie a tutti